I Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di 108 persone, 85 di queste finite in carcere. L'operazione, denominata Eureka, ha colpito in particolare le cosche Nirta Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Gli interessati sono indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, traffico di armi, anche da guerra e riciclaggio. Alcuni dei provvedimenti convertiti in mandati di arresto europeo sono stati eseguiti in Germania, nove indagati, in Belgio sei, Francia tre indagati, Portogallo un indagato, Romania un indagato, Spagna un indagato. Secondo i risultati dell'inchiesta, il clan avrebbe lavorato con l'organizzazione criminale Primerio Comando de Capital in Brasile, con il clan del Golfo in Colombia e con un gruppo di etnia albanese in Ecuador. La droga sarebbe stata portata con navi porta-container in porti come Anversa, Rotterdam o Gioia Tauro in Calabria. Apparentemente parte della cocaina è stata spedita anche in Australia. Per riciclare il denaro illegale della droga, i sospetti avrebbero investito, tra le altre cose, ristoranti, immobili e autolavaggi. L'indagine Eureka sarebbe iniziata nel luglio 2019 a Genk, in Belgio, dove alcuni lavoratori calabresi di una pizzeria sono stati messi sotto osservazione dagli inquirenti. Dalla pizzeria in Belgio ci sarebbero stati contatti con vari spacciatori di cocaina dell'Andrangheta. Durante le indagini, gli investigatori avrebbero avuto accesso alle chat interne dei sospettati dai telefoni cellulari criptali. L'operazione di oggi è collegata ad altre due inchieste coordinate dalla DDA di Milano e Genova. Tutte le inchieste sono coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Melillo.